11.5 punteggio, 96.7 tredicesimo Esatto, vittoriano, giovane The distance of the Korean jumper was 103 and a half meters So he's ranking now at the 19th position 103,5 punteggio, 79.8 per il coreano Vettorale 22 In partenza, Vettorale 22 da seguire Per la Finlandia, Veli Mati Lindström Argento Olimpico, Solk, Lexi Ha preso il via Lindström, eccolo allo